Volturno Vagabondo è il titolo del progetto presentato nel corso di una conferenza stampa stamattina a Caiazzo e finanziato dalla Regione Campania che ha la finalità attraverso una serie di eventi di promuovere il territorio proprio attraverso il turismo, i prodotti tipici. Il fiume Volturno sarà dunque il tema e lo spunto per una serie di iniziative che si terranno la prossima primavera a Caiazzo con convegni, dibattiti, mostre fotografiche ed estemporanee di pittura che si accompagneranno a spettacoli teatrali e musicali. Del progetto finanziato con 70 mila euro dalla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo ne abbiamo parlato con il sindaco di Caiazzo a margine dei lavori. Volturno Vagabondo è un'occasione di promozione del territorio non soltanto del centro storico ma anche le frazioni si inizierà proprio da San Giovanni e Paolo e si concluderà questa rassegna ricca di eventi a giugno 2019. Sì, Volturno Vagabondo è un progetto che vuole coinvolgere il territorio a partire dalla città di Caiazzo ma anche le frazioni, infatti non abbiamo lasciato fuori le frazioni bensì iniziamo proprio da una frazione, iniziamo da San Giovanni e Paolo il 25 novembre raccontando la storia, la cultura, le tradizioni e soprattutto un nostro prodotto che è quello dell'oliva Caiazzana. Poi saremo a Cesarano, la nostra frazione a fianco del Volturno, a pochi passi dal fiume Volturno dove racconteremo la nostra storia, racconteremo i nostri prodotti ma soprattutto riguarderemo il fiume Volturno da più vicino visto che il nostro progetto si chiama Volturno Vagabondo. Da Caiazzo è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it